Siamo in viale Fulvio Tessi, angolo Cagranda. Eccoci qua, è il 15 novembre del 2014, sono le ore 14 e 5 minuti. Queste sono le ultime abitazioni che di solito in viale Fulvio Tessi vengono interessate dalle sondazioni. Dove devi andare? Ecco qua, qua c'era una vecchia strada, è rimasto il marciapiede basso e l'acqua arriva nel controviale, potrebbe rimanersene tranquillamente nel viale centrale invece. Questa è la situazione. Qua abbiamo un posto di blocco avanzato, un comando avanzato. eccoci qua. Atlandit ci fa un baffo. eccoci qua. Eccoci qua. . Eccoci qua. Come verti che giró strada. Ok. Eccoci qua. Grazie.